Ricerca e innovazione, parole d'ordine che fanno pensare a sofisticate tecnologie e imprese all'avanguardia, ma che nel concreto si riferiscono anche ai necessari passi avanti sul fronte del clima. È quanto emerso all'Università dell'Insubra, meta dell'assessore regionale Fermi, che proprio all'impegno laboratoriale degli Atenei Lombardi vuole destinare 50 milioni di euro, ed il sottosegretario Cattaneo, che per lungo tempo, da delegato all'ambiente, ha toccato con mano il ruolo cruciale della ricerca nel contrasto ai danni del maltempo. Il cambiamento climatico che sta già avvenendo rende fenomeni acuti molto più frequenti di quanto fosse in passato. I tempi di ritorno di eventi che una volta erano secolari o addirittura millenari, oggi si misurano nell'arco degli anni, al massimo dei decenni. Dunque dobbiamo costruire tutta una serie di misure di adattamento a questi cambiamenti, che hanno bisogno anche di ricerca e di innovazione. Ecco allora che proprio dall'università potrebbe giungere una parte delle risposte scientifiche al bisogno di prevenzione, nell'auspicio di poter frenare la devastazione che anche nei giorni scorsi ha colpito il territorio. I fenomeni meteorologici acuti si stanno ripetendo anche nel nostro territorio, con una frequenza sconosciuta in passato. Abbiamo visto che gli strumenti consueti facilmente durano poco tempo perché vengono distrutti dalla furia del maltempo. Abbiamo bisogno di strumenti nuovi e per questo c'è bisogno di ricerca e di innovazione.